Basta dare la colpa alla crisi globale. Per la prima volta dall'assunzione del suo terzo mandato, Vladimir Putin ammette che il rallentamento della crescita economica russa è causato da fattori interni. Quest'anno la previsione è per un'espansione del prodotto interno lordo dell'1,4%, un calo rispetto ai ritmi cinesi degli anni pre-crisi, che ha origini strutturali. Se si guarda il PIL, siamo ancora tra le cinque economie migliori del mondo, ha detto Putin, ma se si prende un indicatore chiave come la produttività del lavoro, siamo due o tre volte indietro rispetto alle economie di testa. Prioritario rinforzare il tessuto economico, ha detto Putin, il quale non ha lesinato critiche al governo sulla messa in atto delle misure da lui richieste. In particolare le iniziative per rimpatriare i capitali offshore con il presidente russo che ora minaccia gli imprenditori. Se non li riporterete in Russia non avrete più aiuti dallo Stato.